Sarsi, prego. Grazie Presidente. Ho chiesto al collega Arrani in commissione di sottoscrivere l'ordine del giorno perché di fatto è riuscito ad inserire, ad incorporare una mia precedente proposta che era stata cassata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio ambientale. Io infatti all'epoca avevo fatto una proposta di inserire all'interno del bilancio ambientale un capitolo dedicato all'amianto, all'epoca poi si parla di tre settimane fa, non è che stiamo parlando del mesozoico, e all'epoca la mia proposta non trovò accoglimento. Nel momento in cui siamo andati in commissione con quest'ordine del giorno ho apprezzato il fatto che si intendeva anche andare in questa direzione e quindi a questo punto non è stata buona la prima, buona la seconda e quindi voterò favorevolmente a questo ordine del giorno e ringrazio il collega Arrani per aver fatto un lavoro estremamente articolato e partecipato con tutti i colleghi. Grazie. Grazie. Grazie.